Bene, allora possiamo cominciare. Io ringrazio davvero la professoressa Boltoni, un'amica di vecchissima data, non diciamo quanto, meglio non dire quanto, e anche questa occasione che mi dà di fare una trasperta che gradisco particolarmente. Sì, i rapporti fra letteratura e scienza in Galileo. Ecco, Galileo direi che è proprio un punto cruciale da questa prospettiva, perché Galileo senz'altro è stato forse l'ultimo intellettuale che ha avuto pari competenze, tanto nell'ambito della scienza, questo va da sé, quanto nell'ambito della letteratura. Quindi non ha conosciuto Galileo stesso il divorzio tra le due culture, perché si è occupato di scienza, ma è stato anche un, potremmo definirlo, un critico letterario. poteva investigare il mondo della natura, ma anche dare giudizi da critico letterario sui quattro autori che Dionisotti definiva i quadrumviri della letteratura italiana, cioè Dante, Petrarca, Tasso e Ariosto. È intervenuto su tutti e quattro questi autori, con una prospettiva tra l'altro appunto di scienziato, perché come sapete Galileo ha scritto un saggio sulla misura dell'inferno, la misura proprio desunta da certi piccoli indizi che Dante dissemina soprattutto appunto nell'inferno. Ed è intervenuto su Petrarca e devo dire che lo ha letto anche da scienziato, perché ha privilegiato tutti i punti in cui Petrarca parla dell'occhio, della vista, dell'osservare, del vedere, eccetera. Su Ariosto e Tasso lo sappiamo, sappiamo della idiosincresia nei confronti di Tasso e forse proprio anche qui per una sindrome dello scienziato, nel senso che non apprezzava di Tasso certe inverosimiglianze, certi eccessi e amava tantissimo Ariosto. È rimasto l'inventario della sua biblioteca e anche la sua biblioteca è una biblioteca mista, per esempio degli antichi, lui aveva le opere di Euclide, di Archimede, chiaramente va da sé che facerano parte dei ferri del mestiere, ma c'aveva anche Plauto, aveva anche Terenzio, giovenale, marziale, quindi un amore anche per la commedia, lui stesso pare si sia cimentato in una commedia che si è perduta, per la satira lui stesso, vedremo, aveva una forte vocazione satirica. Dei moderni aveva ovviamente Copernico, il De Revolutionibus Orbium Celestium, ma aveva anche Boccaccio, aveva il Decameron, aveva un testo di bruciante attualità, il Don Quixotte, lui aveva il Don Quixotte che ovviamente in traduzione italiana che è del 23, cioè è dell'anno del saggiatore, un libro uscito proprio in quei giorni, quindi credo che alla fine abbia ragione Calvino in quella frase, e poi ecco dicevo c'è anche un altro aspetto, è riconosciuto da tutti di essere stato un grande prosatore, tanto quando scriveva di letteratura quanto soprattutto quando scriveva di scienza e Calvino ha pronunciato quella famosa frase di Galileo, il più grande scrittore della letteratura italiana di ogni secolo. Questo suscitò una certa polemica, ma lasciamola da parte perché credo che abbia ragione fondamentalmente Calvino. Ecco, paradossalmente però Galileo ha un po' due facce, una è questa, è uno scienziato che è anche al tempo stesso un umanista, uno storico della letteratura, un critico della letteratura in qualche modo, ma possiamo anche dire che contemporaneamente si deve a lui, diciamo alla sua responsabilità se è cominciato da quel momento appunto quello che Charles Snow ha chiamato il divorzio tra le due culture, che è diventato una frase fatta, una formuletta. Quindi da una parte ha sommato in sé questa doppia competenza, ma dall'altra è con la sua opera che si è cominciata ad attuare quel processo di specializzazione che inevitabilmente ha portato a separare le cosiddette due culture. Questo lo vediamo anche dal punto di vista teorico, ribadisco teorico. C'è un enunciato che magari se possiamo fare vedere, era quello che avevo messo per primo, c'è un enunciato che è fondato su una antitesi radicale. Magari mentre lo vedete lì non sto a leggerlo, date un'occhiata, io semplicemente mi limito a commentarlo. In questo enunciato praticamente distingue con delle antitesi molto nette, si potrebbe fare, magari ve lo lascio come esercizio da fare in classe, c'è tutto un gioco di antitesi. Si comincia facendo un po' il discorso delle scienze umane, del verisimile, infatti dice per uno che voglia persuadere cosa, se non falsa, almeno sai dubbioso, sta parlando del verisimile e dice come si può procedere con il verisimile, usando argomenti probabili, congetture, esempi eccetera. E poi c'è una fortissima avversativa, ma quel ridursi, quindi ecco che qui Galileo parla invece dell'altra cultura, parla della geometria, delle dimostrazioni, della matematica, eccetera, e lì non si dà mezzo tra il vero e il falso, cioè una cosa è o vera o falsa. E poi riprende, riprende ancora, sempre sottolineando questa antitesi radicale, appunto quando si fa scienza o si conclude, e per Galileo concludere vuol dire giungere a delle conclusioni ineccepibili, indiscutibili, oggettive, assolute, eccetera, oppure inescusabilmente si paralogizza. E quindi di nuovo ecco che si parla dell'altra cultura, l'uso di limitazioni, distinzioni, eccetera, girandole e così via. E poi infine un'ultima avversativa con questa antitesi radicale, che era il motto di Cesare Borgio o Cesare o niente, in brevi parole al primo assalto. Dunque è un enunciato che non lascia dubbi. Per Galileo il modo di procedere dello scienziato è radicalmente, si potrebbe dire, opposto al modo di procedere delle scienze umane, diciamo più genericamente. E questo è un discorso che contrappone la tradizionale antitesi tra l'episteme e la doxa, cioè tra la scienza e ciò che è soltanto opinabile. Ed è un enunciato che va benissimo d'accordo con certe considerazioni che faceva in quegli stessi anni anche Cartesio, quando diceva nel discorso del metodo che se uno dice una cosa che è vera, questa cosa vera non ha bisogno di tanti infiorettature, di tanti abbellimenti. Se una cosa è vera può essere detta anche, diceva Cartesio, con un basso bretone, cioè con un dialetto rosso e informe, ma quello che conta è che cosa dire. Ecco una differenza che Galileo a livello teorico sottolinea. Allo scienziato interessa che cosa dire, al letterato interessa come dire le cose. Quindi si tratta di due procedure radicalmente diverse. Ma come dicevo, questo vale in teoria, vale a livello di enunciato, con un paradosso, quel paradosso che qualcuno ha chiamato retorica dell'antiretorica. Cioè nel momento stesso in cui Galileo fa un discorso che mette in primo piano, che valorizza, che esalta il modo di procedere dello scienziato e degrada, perché parla di girandole, parla di istorcimenti. Insomma, ma mentre fa questo, parla di paralogizzare, mentre fa tutto questo, di fatto si serve della retorica. Presenta questa antitesi in un modo, in una forma di tipo appunto retorica. Interessata, interessata a esaltare la scienza e diciamo a deprimere la letteratura. Se però noi passiamo dal punto, dalla prospettiva diciamo teorica, alle cose reali, noi vediamo degli enunciati che, e soprattutto delle utilizzazioni, vediamo se si apre quest'altro, ecco, delle utilizzazioni della letteratura proprio nell'ambito della scienza. Galileo è stato sempre, in quasi tutte le sue opere molto sensibili alla componente letteraria di testi scientifici. Come mai questo interesse? Oggi la cosa ci può sembrare strana, oggi uno scienziato non si pone questo problema. Esiste ovviamente anche una eleganza di un discorso scientifico, ma è di altra natura. Lavora molto sull'economia, sulla razionalità della consecuzione argomentativa, logica, eccetera. Oggi nessuno scienziato pretende di scrivere bene. Galileo invece pretendeva anche di scrivere bene e vedremo tante testimonianze in questo senso. Come si spiega questo interesse estetico, letterario, potremmo quasi dire edonistico, per un discorso scientifico? Ma lo possiamo spiegare utilizzando una categoria di uno storico della scienza che ha profondamente innovato la storia della scienza, cioè Thomas Kuhn. Thomas Kuhn ha scritto un libro che si intitola La struttura delle rivoluzioni scientifiche. La sua teoria è questa, che in realtà dal punto di vista epistemologico, soprattutto dal punto di vista della filosofia della scienza, non è vero che si proceda attraverso un progresso indefinito, non è vero che ci sia un sapere di tipo cumulativo. In realtà il sapere, dal punto di vista epistemologico, nella scienza è piuttosto sostitutivo, di tipo sostitutivo. E introduce la teoria del paradigma. Che cos'è il paradigma? Leggo testualmente per Kuhn, il paradigma è una conquista scientifica universalmente riconosciuta che per un certo periodo, quindi che non è eterno, non è immutabile, per un certo periodo fornisce un modello di problema e soluzioni accettabili a coloro che praticano un campo di ricerca. Per semplificare e per adeguare il discorso a Galileo, possiamo pensare appunto al paradigma aristotelico-tolemaico, cosiddetto perché da una parte c'è il filosofo Aristotele che ha scritto anche una fisica, una metafisica, eccetera, ha scritto anche di scienza, e Tolomeo che era un astronomo, oltre che un fisico, eccetera. Ecco, questo è il paradigma che è stato accettato per la gran parte da quella che Thomas Kuhn chiama la scienza normale, cioè un modo di affrontare e risolvere i problemi che partiva da certi presupposti. Uno di questi era che la Terra fosse immobile al centro dell'universo. Quando, ragiono sempre con la terminologia di Kuhn, a un certo punto sorgono delle anomalie, cioè attraverso l'osservazione, attraverso anche il ragionamento, si vede che con un certo paradigma certi problemi non si riescono a risolvere, allora ecco che si entra in una fase, potremmo dire, di turbolenza, in una fase in cui il vecchio paradigma, in questo caso aristotelico-tolemaico, entra in crisi. Ma al tempo stesso non è che il nuovo paradigma possa già imporsi di per sé, occorre un tempo lungo prima di avere certe prove. Per fare un esempio, la prova fisica del moto della Terra è stata raggiunta soltanto, potremmo dire, nell'Ottocento con il famoso pendolo di Foucault che si trova per esempio al Pantheon di Parigi e che è stato oggetto di un romanzo non troppo fortunato di Umberto Eco. Prima si doveva fare una congettura e quindi non è che senza una prova dimostrabile si potesse accettare l'idea che la Terra ruotasse attorno al Sole. Ecco, questa è esattamente la fase in cui si trova a vivere Galileo, una fase in cui al paradigma, diciamo così, cioè lo chiama così Kuhn, al paradigma normale Galileo si sforza di sostituire un paradigma rivoluzionario alternativo. È un periodo di forte contenzioso e infatti ci sono tantissime contese non solo tra Galileo e Gesuiti ma tra i Gesuiti stessi eccetera, perché siamo in un periodo diciamo di destabilizzante. E' da qui che si comincia a capire perché Galileo ha questo interesse anche per un testo scientifico che abbia anche un'attenzione, una sensibilità di tipo letterario. Proprio lo vediamo da questa frase di Salviati, che è uno dei tre personaggi dei massimi sistemi, il quale dice che è vanissimo il pensiero di chi credesse introdurre nuova filosofia e la sua era una nuova filosofia, era una filosofia alternativa, col reprovare questo o quell'autore. Ovviamente qui c'è anche la polemica contro il principio d'autorità che abbiamo visto anche nella slide precedente dove diceva sì se uno vuole fare della letteratura può citare questo, quello va benissimo, però per la scienza tutto questo non serve. Quella che in retorica si chiama la prova etica non ha nessun valore nella scienza, ce l'ha in letteratura. Quindi dice, è vano il pensiero che crede di poter introdurre una nuova filosofia, una nuova epistemologia criticando, rimproverando questo che l'autore. Bisogna prima imparare a rifare i cervelli degli uomini, è una frase modernissima, sembra una frase fatta di oggi, rifare i cervelli degli uomini e renderli adatti e distingue il vero al falso. Ecco, questo è il principio da cui parte e che spiega anche, e cercheremo di vederlo, la sua sensibilità letteraria. Per capire questo obiettivo bisogna anche rendersi conto di quale fosse il pubblico a cui Galileo pensava come destinatario privilegiato. Voi sapete, a oggi forse non è più di moda, ma quando era di moda Iaos, l'estetica della ricezione, eccetera, si parlava molto del lettore, della prospettiva del lettore e si era creata una certa tipologia, c'è il lettore reale, il lettore ideale, il lettore ipotetico, insomma tante varietà. Ecco, a livello di lettore ideale, privilegiato, quale era per Galileo? Beh, intanto dobbiamo vedere quali lettori poteva avere a disposizione Galileo, ovviamente sempre tenendo conto che almeno il 95% della popolazione era analfabeta, quindi stiamo sempre parlando di un pubblico comunque sia elitario. Beh, c'erano tre, tre diciamo ceti che potevano leggere Galileo e capirci qualcosa. C'era intanto, c'erano anche, c'erano quelli che potremmo chiamare i colleghi di Galileo, c'erano i professori dell'università, i colleghi aristotelici in gran parte, perché l'università, come è sempre stata la scuola, tranne pochissime eccezioni, è sempre conservatrice, cioè canonizza qualcosa che riguarda il passato, al massimo il presente. La scuola valorizza i valori che sono acquisiti, che sono attuali, eccetera. Il mondo dell'università, comunque, del tempo di Galileo era formato in grandissima parte da scienziati che seguivano il paradigma normale aristotelico-tolemaico. Poi c'erano, diciamo, i tecnici, oggi li chiameremmo gli ingegneri, che era un pubblico che Galileo aveva molto caro, perché possiamo dire che se Galileo forse non fosse mai stato a Venezia, Padova, insomma, e non avesse conosciuto i vetrai di Murano, non avrebbe mai potuto perfezionare quel cannocchiale che gli ha consentito quelle scoperte che sappiamo. C'erano questi. E poi c'era un pubblico, un pubblico, diciamo, potremmo dire di dilettanti colti, di non addetti ai lavori, però curiosi, interessati alla scienza, ma per diletto, in questo senso proprio, bisogna intendere in senso etimologico, erano dei dilettanti, cioè lo facevano per diletto, per un interesse personale, non avevano interessi, diciamo, materiali, di lucro, come invece li avevano gli aristotelici, professori universitari, che si mettono sulla difensiva rispetto al paradigma alternativo, il paradigma che chiameremo copernicano per intenderci, anche per ragioni di interesse, perché è chiaro che le scoperte di Galileo minavano alle radici tutto l'apparato dell'astrologia, perché è chiaro che Galileo, un loro avversario, era potuto dire beh, voi avete fatto per duemila, anzi molti di più anni, i vostri oroscopi, ignorando la presenza di tantissimi corpi celesti che io ho scoperto col cannocchiale e che ci sono e che voi non avevate considerato solo perché non si vedono occhio nudo. E così, per parlare di corpi celesti abbastanza vicino a noi, voi avete fatto tutti gli oroscopi fondandovi sulla presenza di Giove e non avete mai calcolato, avranno pure degli influssi anche loro, i satelliti che io ho scoperto. E siccome attraverso l'astrologia questi professori avevano anche dei profitti, come si dice oggi, extramenia, avevano degli interessi, come vanno i medici, extramenia, avevano degli interessi perché poi, teniamo conto, ma qui potrebbe Lina Bolzoni dire tantissime cose, l'astrologia non valeva soltanto per così, non era soltanto abbinata all'astronomia, veniva usata per la medicina, si ricavava le ricette, le terapie attraverso il rapporto che c'è tra le parti del corpo e gli astri e quindi ogni anno si faceva questa teriaca che era una pozione che doveva servire per quell'anno a curare molti se non tutti, tutte le malattie e lo si faceva considerando appunto gli oroscopi, diciamo. Quindi c'era questo interesse che li rendeva, potremmo dire, impenetrabili in parte per buona fede perché, come dice qui, in fondo è una nuova filosofia che è alternativa a quella a cui vedremo anche altre testimonianze di Galileo, a cui era, dice Galileo in un altro passo, che questa gente aveva appreso con il latte materno, quindi cambiare la prospettiva era molto difficile. Quindi in buona fede ma anche in mala fede perché vedevano minati certi loro interessi. Poi c'erano appunto gli ingegneri, li ho chiamati con un termine moderno, allora li chiamavano i meccanici, ma sui meccanici pesava una condanna sociale, i meccanici si sporcavano le mani e nel 600 era disdicevole che ci si sporcasse le mani. Come sapete il grande chirurgo in realtà non si sporcava le mani, dava disposizione a un cerusico, un barbiere di tagliare, di tagliare, taglia qui, fai questo, fai quello. Pertanto avevano una posizione sociale non dico infima ma comunque di basso livello e quindi non era il pubblico che soprattutto avesse potuto imprimere forza a questo progetto, questo grandioso progetto galileiano di riforma del sapere, di riforma del sapere di cui avrebbe voluto investire anche la stessa Chiesa, ma di questo parleremo. Rimanevo appunto in quel ceto che ho chiamato di dilettanti, colti e anche abbienti, perché qui c'è un altro aspetto che fa di questi un pubblico ideale di lettori privilegiato. Galileo si rende conto che con la nuova scienza non basta più osservare i fenomeni della natura, come in fondo, forse, chissà, faceva ancora Leonardo. Bisognava avere i laboratori, bisognava fare con la scienza sperimentale, bisognava avere degli strumenti, bisognava, diciamo, sollecitare la natura, bisognava stanarla perché la natura si nasconde, non si mostra più così facilmente. Quindi ci volevano dei finanziatori che in Italia non c'erano pubblicamente, non era come l'Inghilterra dove c'era o ci sarebbe stata la Royal Society o l'Accademia Prussiana più tardi o l'Accadémie de France in Francia. Bisognava trovare dei finanziamenti, ma presso chi? Presso questo ceto di intellettuali colti, non scienziati di professione, ma sinceramente appassionati di scienza, che la coltivava per interesse personale, senza secondi fini e che anche oltretutto era ricco. Ora, a questo pubblico, a questi potenziali elettori, chiaramente diventava fondamentale il modo in cui rivolgersi, il modo a cui indirizzarsi. Tenete conto, e questo forse è un aspetto che credo può chiarire tante cose, che, se vogliamo, Galileo non ha detto niente di più rispetto al sistema che si direbbe egliostatico, di quello che aveva detto Copernico decine di anni prima. Qual era la differenza? La differenza è che di Copernico nessuno si era accorto, in realtà, fino a che non lo porta di nuovo alla luce Galileo e quindi induce poi nel 1616 a condannare Copernico. Prima Copernico girava, veniva a letto, nessuno diceva niente. Perché? Perché era scritto con un linguaggio tecnico, matematico, in latino e non aveva avuto nessuna risonanza. Galileo, invece, va a cercare la sua condanna anche per questa ragione, per aver scritto i suoi testi in italiano e con una leggibilità, con una eleganza, con una, potremmo dire, attrattività che Copernico certamente non aveva avuto. Bisogna anche tener conto che Galileo, come dicevo prima, non aveva solo interesse a essere ascoltato da questi dilettanti colti, ma aveva l'ambizione di fare accogliere anche alla Chiesa il copernicanesimo come la scienza, diciamo così, ufficiale anche del cattolicesimo. E aveva l'ambizione di mettere un po' l'Italia, un paese cattolico come l'Italia, un po' al passo con i tempi e in linea con i paesi protestanti. Cioè voleva modernizzare la cultura, renderla competitiva con i paesi protestanti. Se uno leggesse l'introduzione dei massimi sistemi, si vede che c'è questa rivendicazione, potremmo dire, tra virgolette, in senso ovviamente non fazioso, una rivendicazione nazionalistica di Galileo, che si poteva ottenere anche con questo interesse, diciamo così, anche formale e non solo contenutistico. Tra l'altro, quindi, i suoi destinatari non erano solo questi che dicevo degli intendenti di scienza, ma erano anche le alte gerarchie ecclesiastiche, la curia, il papa. Teniamo conto che Maffeo Barberini, che non era ancora diventa papa nel 1623, ma prima era un grande umanista che aveva scritto poesie in latino, eccetera. Ora, scapite bene che non ci si può rivolgere a una persona come Maffeo Barberini in latino e con delle formule aride matematiche, con delle dimostrazioni, diciamo così, puramente numeriche. Galileo pensa a questo pubblico, un pubblico quindi esigente, potremmo dire, culturalmente esigente, distinto, elegante e tra l'altro è esattamente quel tipo di pubblico che lui immette nei massimi sistemi, perché uno è un nobile fiorentino che ha una villa magnifica dove Galileo è stato a fare proprio delle esplorazioni astronomiche, perché l'altro è un altro ambiente veneziano che aveva un palazzo addirittura sul Canal Grande dove Galileo è stato e dove Galileo ha ambientato i massimi sistemi. Ecco, questo fa capire perché Galileo abbia anche, diciamo, delle ragioni letterarie da fare valere. E a questo proposito viene buona anche questo enunciato che avevo anticipato prima, ma che possiamo leggere. Qui è Sagredo che parla e dice Cominciai a credere che uno che lascia un'opinione imbevuta col latte, ecco quello che dicevo prima, cioè che uno ha dalla nascita, oggi diremmo con una frase abusata che ormai si dice da tutte le parti, e che avete già capito qual è, nel DNA, ognuno ha nel DNA l'idea che la Terra sia immobile al centro dell'universo, seguita da infiniti, quindi è l'opinione che tutti accolgono per venire un'altra da pochissime seguite, perché chi è che allora pensava che la Terra si muovesse? Negata da tutte le scuole, ovviamente l'aristotelismo, e che veramente sembra un paradosso grandissimo, perché infatti chi è che qui guardando fuori dalla finestra crede che noi ci stiamo muovendo a velocità vertiginosa? Bisognasse per necessità, per poter far cambiare questa opinione, che fosse mosso, per non dire forzato, da ragioni più efficaci. Ecco, questo è il punto. Quali sono queste ragioni più efficaci? Sono una scrittura che tenga conto anche di una sensibilità letteraria, che tenga conto anche di questa dimensione. Le ragioni più efficaci sono, per esempio, l'uso che è frequente in Galileo delle digressioni, degli apologhi, delle favolette. Notate che la digressione, in fondo, è un procedimento che è sì letterario, ma in fondo è anche antiscientifico, perché di solito si dice che una dimostrazione matematica è elegante, è tanto più elegante quanto più è economica, quanto più riesce a saltare i passaggi. Quindi, in fondo, Galileo, invece, e lo vedremo, esalta la digressione, che è più, invece, poi esiste anche lo stile laconico, ma è più pertinente a un discorso letterario che ama la cosiddetta amplificatio. E di esempi, e qua quasi è superfluo che lo faccia, c'è quello dell'indagatore dei suoni, del saggiatore, che conoscete tutti e che senz'altro lo avete nelle vostre antologie. Quindi non lo sto a leggere perché è molto lungo, ma lo do per conosciuto. Qui vedete solo l'inizio, vorrei solo fare vedere perché ho detto favoletta, perché ho detto apologo, perché se notate l'incipit sembra una favola. Nacque già in un luogo assai solitario, è come dire c'era una volta, c'era una volta un uomo, eccetera. Questo è una favoletta, è una digressione che Galileo teorizza, cioè non è che gli viene lì per caso, perché è preso dall'estero, ma che Galileo teorizza e mette in pratica. È una favoletta, però attenzione, questo è il punto, perché di solito quando si parla di letteratura e scienza, per esempio anche in Galileo, si dice sì, Galileo è un grande scrittore. È un grande scrittore perché è nato così, perché aveva questa dote. Certo, aveva anche questa dote, ma c'è una strategia dietro a questo, se no non si capirebbe il rapporto con la scienza. Sarebbero due strade parallele. C'è uno scienziato che, per dono della natura o di Dio, ha avuto questa capacità di scrivere bene. Non è così, in questo modo sarebbe casuale, non ci sarebbe una interazione, una dialettica tra scienza e letteratura. La relazione alla dialettica c'è proprio per questa strategia consapevole di Galileo. La volontà di fare scienza, qui Galileo sta facendo scienza, sta facendo scienza, anzi filosofia della scienza, in un modo comunque letterario. Ecco l'interazione. Perché sta facendo scienza? Perché qui, con questa favoletta, lui sta dicendo quali sono le doti, le qualità, i requisiti, ecco i requisiti minimi che deve avere un vero scienziato. Deve essere dotato di ingegno perspicacissimo. Qui sta facendo un discorso del metodo. È un po' come se ci fosse Cartesio che scrive il discorso del metodo. Sta facendo scienza, sta facendo filosofia della scienza, nel momento stesso in cui sta raccontando una favola. Ingegno è la risorsa principale dell'estetica barocca. L'ingegno è quella facoltà della mente umana che consiste nel trovare delle relazioni tra cose, tra loro distanti. Quindi l'ingegno è alla base della metafora. Per fare una metafora ci vuole l'ingegno, ma l'ingegno è anche alla base di una legge scientifica. Perché la legge scientifica cosa fa? Sintetizza dei rapporti interfenomenici, dei rapporti tra fenomeni. C'è quell'aneddoto che è falso, però è comunque ugualmente indicativo. Spesso le leggende sono più vere delle cose vere. Di Newton che addormentandosi sotto un melo, con la mela che gli cade in testa, scopre la legge di gravitazione universale. Una leggenda però è un esempio di questo ingegno, di questo ingegno che consiste nel connettere questo fenomeno, la mela che cade, con addirittura questa visione cosmologica del sistema, quantomeno del sistema solare. Perspicacissimo significa, da perspiccere, che bisogna guardare attraverso i fenomeni, bisogna attraversarli, non limitarsi alla superficie. La curiosità, la curiosità diventa una risorsa e una virtù, rovesciando quella che era invece la curiosità che si aveva prima della nuova scienza, che era tacciata di ibris, cioè di tracotanza, di superbia, di presunzione. E' con il Seicento che si cambia di segno la curiosità, pensate ancora a Dante, state contenti umanagente al Quia, ecco la curiosità no, non si deve avere, accontentatevi del poco che sapete. E' con il Rinascimento e con il Seicento che cambia la prospettiva. Tra parentesi, quasi tutti i miti classici sono dei miti che raccontano il peccato di Ibris. Pensiamo, non so, a Niobe che si vanta di avere più figli di Latona, pensiamo a Fetonte che pretende di volare, o Icaro, Dedalo, eccetera. Beh, qui cambia in disegno. A Teone, a Teone è significativo perché è un cacciatore, un cacciatore che spia Diana mentre sta facendo il bagno. Viene condannato perché Diana fa sì che i suoi segugi, i suoi cani non lo riconoscono più e lui viene trasformato in cervo e viene sbranato. A Teone diventa una figura positiva perché rappresenta la curiosità che ha l'uomo di investigare la natura. Pensiamo a Giordano Bruno, pensiamo a Bacone, parlano di A Teone come di un eroe positivo. Quindi qui c'è il discorso del metodo di Galileo reso attraverso un apologo, attraverso un testo di alta, di altissima letteratura, dove si insegna anche che cos'è il metodo cosiddetto sperimentale, induttivo, andare in cerca. Qui Galileo, e non è un caso secondo me, poi certo si possono fare quelle deformazioni che vanno sotto il nome di Geistesgeschichte, cioè di storie dello spirito, ma non è un caso che Galileo operi e scriva queste cose nel periodo in cui comincia a nascere il romanzo, il romanzo moderno, questo è un testo romanzesco, è un romanzo picaresco, letteralmente, è un inizio di romanzo picaresco. Che cos'ha di caratteristiche il romanzo picaresco? Quello di svolgersi sulla strada, quello di qualcuno che per, come dire, sbarcare il lunario, si mette in strada, va nelle osterie, va nelle nocande, va nelle trattorie, fa degli incontri, è esattamente quello che fa questo uomo dotato di natura. E non è un caso, lo dicevo all'inizio, che Galileo avesse in casa il Don Quixote, che è un romanzo picaresco, è un romanzo che, diciamo, è nel filone del Lazarillo de Tormes, ecco. Quindi c'è l'idea del metodo, c'è una dimensione fiabesca, nacque in un luogo, appunto. Ecco, c'è un altro aspetto, quello che potremmo chiamare il nuovo essos dello scienziato, cioè lo scienziato che non sta più in casa, vicino al focolare, a leggere i libri, ma che si mette in strada, lo stesso Galileo vanta di sé di avere passato tante notti all'aperto, d'inverno, quando faceva le esplorazioni che portarono a Siderius Nuncius. Sono tutte cose che ci sono in questa favoletta, ripeto, di alto livello letterario, ma attraverso cui Galileo sta spiegando il metodo della nuova scienza. Questa è una digressione, è una palese digressione, in un testo che parla delle comete, è nel Saggiatore. Ed è una digressione che lo stesso Galileo non mette lì a caso, ma che lui stesso teorizza. Qua c'è una dichiarazione che lui fa in una lettera molto tarda e significativa, che sia del 1640, perché Galileo ormai prossimo alla morte ancora crede a queste cose, crede al fatto che bisogna dare a un testo scientifico anche una dimensione letteraria. Lui qui, ecco, contraviene a quello che uno pensa, che bisogna scrivere laconicamente, perché la scienza appunto di solito dovrebbe essere essenziale. E lui invece dice il contrario. Dunque ad alcuno, eccetera, non sto a leggere, la prima parte dice che appunto bisognerebbe scrivere spogliandosi di qualsivoglia vaghezza e ornamento, come i puri geometri, i quali neppure una parola proferiscono che dall'assoluta necessità non sia loro suggerita. E' quello che fa lo scienziato in senso tecnico e stretto. Ma io all'incontro non solamente non ascrivo difetto in un trattato, anche con che indirizzato un solo scopo, cioè avere un obiettivo, una dimostrazione da fare, interserire varie altre notizie, purché non siano totalmente separate, certo, e fa questo paragone che alla fine, faccio per far prima, non sto a leggere, il paragone a un convito. Qui Galileo ha presente, non a caso, un letterato che è Dante. Dante scrive il convivio e tra l'altro, se uno andasse a leggere anche l'istoria e dimostrazione intorno alle macchie solari, dove lui deve quasi, anzi, deve proprio giustificarsi di averlo scritto in italiano perché il suo corrispondente e avversario è un tedesco e dice ma scusa mi scrivi le cose in italiano che io non le capisco, che sono tedesco, scrivi in latino, lui dice no, scrivi in italiano e riproduce esattamente l'argomentazione di Dante nel convivio, cioè lo dice perché devono capirlo tutti, quelli che non hanno potuto studiare, eccetera. Qui fa il paragone ancora una volta del banchetto e dice per esempio Vile e Plebeo meritamente si chiamerebbe quel convito nel quale mancassero i cibi e le bevande, chiaramente, il principale requisito è necessario, ma non però il non mancare di queste lo fa così magnifico e nobile che sommamente più non arrechino grandezza e nobiltà la vaghezza dell'egregio e sontuosa parato, lo splendore dei vasi d'argento e d'oro che adornando la mensa e le credenze dilettano la vista, qui ho ripetuto copiando, mi scuso, le posate, i bicchieri, le portate, la mensa, eccetera. Ecco, questa è la teorizzazione proprio esplicita del rapporto che Galileo ritiene fondamentale per un discorso anche scientifico, qui sta parlando sempre di scienza, non di letteratura, ma riconosce che è fondamentale che ci sia anche questa dimensione. Questo è confermato da un altro enunciato, qui siamo, vedete la data, 24 dicembre 1629, è la vigilia di Natale, Galileo scrive a Cesi, il suo amico Linceo, che insomma è in ansia perché questi massimi sistemi non arrivano mai fuori, aveva cominciato a scriverli nel 24, l'aveva già preannunciato nel 1610, alla fine del Siderus Nuncius, ancora non arrivava niente. E Galileo gli scrive a Cesi facendogli gli auguri e dice così, ho condotto vicino al porto i miei dialogi e infatti lui nel 30 li ha definitivamente finiti, ma gli manca ancora poco. E distese assai chiaramente quelle oscurità che io avevo tenute sempre quasi che inesplicabili, insomma dal punto di vista dei contenuti, dal punto di vista scientifico, lui ha finito l'opera. Pochissimo mi resta delle cose attinenti alla dottrina, ecco. E quel poco è di cose già digeste, cioè le ho già digerite, insomma non faccio fatiche, sono facilmente spiegabili. Non è quello il problema, ecco, non è quello il problema. Manca mi, notate la forma, la cerimoniale introduzione e le attaccature dei principi, dei dialogi con le materie seguenti. Quindi ho qualche problema nelle connessioni, nelle giunture, nel sintassi argomentativa e nell'introduzione che è cerimoniale. Ovviamente sia nel Seicento bisogna fare un discorso intelligentemente. Galileo, come dovrebbero fare tutti, come in genere fanno tutti, scrive l'introduzione per ultimo, ha già finito, deve scrivere la cerimoniale introduzione, che vuol dire con anche degli elogi, insomma un discorso epidittico, elogiativo, eccetera, quindi letterario, che sono cose piuttosto oratorio-poetiche, che scientifiche, certo lo riconosce bene anche lui, tuttavia vorrei che avessero qualche spirito e vaghezza, cosa vuol dire spirito e vaghezza? Che avessero anche una qualità di tipo letterario, una certa eleganza, una certa bellezza, un certo fascino, eccetera. Chiederò aiuto agli amici dove la mia musa, non a caso parla di musa perché appunto sta parlando di letteratura, non avesse geni abbastanza, in realtà non ha bisogno di amici, ci pensa lui da solo. Ecco, questo è il discorso che sta a cuore a Galileo, che in qualunque punto della sua opera lo rispetta, lo segue, quest'idea di rifare i cervelli degli uomini nel modo che possa essere più attraente, attrattivo possibile. Per esempio l'uso di similitudini, similitudini però che, diciamo per fare un piccolo salto, che uno come Benvenuto da Imola, commentatore di Dante, definirebbe delle comparazioni domestiche, cioè delle similitudini terra-terra di oggetti quotidiani che sono sotto gli occhi di tutti, per esempio per descrivere la idrodinamica, il movimento dell'acqua e cosa fa? Parla di un secchiello, un secchiello, prende un secchiello, un catino, e tutto questo gli serve per spiegare il fenomeno delle maree. E' chiaro che lui non scrive, non fa questi discorsi agli addetti ai lavori, fa dei discorsi a persone che sono interessate alla scienza, la capiscono, ma hanno bisogno anche di modi diversi. Fa riferimento a una carrossetta, un esempio per spiegare il principio di inerzia. Addirittura nei massimi sistemi invita a osservare il contrarsi, il dilatarsi delle pupille dei gatti per spiegare come a seconda dell'intensità della luce varia l'occhio, fa un discorso di anatomia guardando la pupilla dei gatti. E anche qui Calvino ha ragione quando dice letteralmente che Galileo Galilei meriterebbe di essere famoso come felice inventore di metafore fantasiose, quanto lo è, ma questo lo sappiamo, come rigoroso ragionatore scientifico. Ecco, e pensiamo, facciamo, qua ho ancora un po' di tempo, facciamo un esempio anche questo famoso che è quello del Gran Naviglio, no? Il Gran Naviglio è quella lunga descrizione che Galileo introduce per fare capire come la Terra può benissimo muoversi, anche vertiginosamente senza che questo abbia una qualche incidenza su di noi. Perché? Qual era l'obiezione che veniva fatta? L'obiezione era questa, se la Terra si muovesse, no? Facendo io cadere un grave, un corpo, insomma, un corpo pesante, per esempio dalla Torre di Pisa, facendola cadere, se la Terra si muovesse, questo corpo non arriverebbe al piede della perpendicolare, perché per quanto minimo sia il tempo che impiega questo corpo nel venire a Terra, e naturalmente in questo caso quanto più alta la Torre, tanto più questo vale, ecco, anche in un tempo minimo, un po' come la tartaruga, eccetera, di Zenone, il tempo che sarebbe necessario, per quanto piccolo, necessario per arrivare a Terra, farebbe sì che la Terra nel frattempo si sarebbe spostata, quindi non dovrebbe cadere al piede della perpendicolare. Questo invece avviene, quindi la Terra è immobile. Allora, cosa fa Galileo? Galileo fa questo esperimento, esperimento cosiddetto mentale, che è perfetto anche nella logica, perché intanto dice rinserratevi nella maggiore stanza sotto coperta, perché è chiaro che se si fa fuori all'aperto c'è il vento, ci sono tanti fenomeni, e descrive un interno che è quello che vedete, non sto a leggere. Mi limito solo a dire questa cosa, se Galileo qui avesse voluto fare questa dimostrazione, diciamo, analogica, gli sarebbe bastato prendere questo fatto. Si prende un secchiello che a goccia a goccia vada versando dell'acqua in un altro vaso di angusta bocca, cioè che abbia il collo stretto. Ecco, basta questo. Poi fai andare la nave a velocità grande, a piacere, purché ovviamente sia di moto rettilineo uniforme, e vedrete che la goccia cade, se non rimane indietro, non va dispersa, cade esattamente perpendicolo sulla... è quel cosiddetto principio di moto, di relatività galileiana. Ecco, dicevo, bastava questo. Se lui avesse scritto questa cosa, era sufficiente. Invece, notate qui con quale minuzia. Minuzia, proprio si potrebbe quasi dire, sembra una cineseria. Si ricordano le farfalle, le mosche. Se gettate una palla da una parte o dall'altra, che la tirate verso pop o verso prua, non cambia niente. Ci sono tantissimi dettagli. Notate che ripete addirittura, uno scienziato puro direbbe, questo è ridondante, è eccessivo. Prima descrive la scena statica, poi la descrive quando la nave si muove velocissimamente, dice. E lo ripete di nuovo, con i pescetti, i pesci che si muovono e che non fanno più fatica se vanno verso prua e non sono più agevolati nel moto se vanno verso poppa. Insomma, le farfalle, le mosche, continueranno i loro voli indifferentemente. Perché tutta questa insistenza? Beh, proprio per quello che abbiamo visto prima. Perché Galileo vuole rifare i cervelli degli uomini. E per rifarli ha bisogno di martellarli, di insistere, di far vedere le cose sotto una prospettiva diversa. È quel fenomeno, tra l'altro, letterario, che chiameremo di straniamento. Vedere le cose in modo diverso da come solitamente siamo abituati a guardare. E quindi un fenomeno, lo chiamavano straniamento i formalisti russi, quelli di Praga, della scuola di Praga, parlavano di de-automatizzazione, cioè uscire dagli automatismi. Questo è quello che vuole fare Galileo. Ora, quando quest'opera, che ovviamente sono i massimi sistemi, dovette essere tradotta dopo la condanna, Galileo cercò e riuscì a fare tradurre l'opera in modo che anche nei paesi protestanti, e comunque non in Italia, dove non poteva essere tradotta o pubblicata, la tradussero in latino. E il traduttore, che è uno scienziato serio, si chiamava Bernegger, si ramaricò di questa, quello che chiama macrologia, una macrologia morosa, et propria italis, sed matesis ad modum aliena, cioè contraria, insomma, contraria alla matematica. Diceva che, insomma, questo metodo diventa un po' troppo moroso, cioè, insomma, è un ritmo troppo lento, è indugia un po' troppo. Quindi sì, certo, reka iukunditas, dice, reka iukunditas, però, insomma, è un po' troppo lento, diciamo, questo ritmo. Ma perché questo? C'è una sua ragione, deve avvestare le persone a ragionare con una prospettiva diversa. Quella di Galileo è un'azione, potremmo dire, di apostolato. Di apostolato nel senso che vuole far cambiare addirittura le forme della percezione. E quello che lui ha fatto a livello di genere è altrettanto rivoluzionario di quello che ha fatto a livello di scienza, a livello di genere letterario, intendevo dire, quindi di letteratura. Cioè, le rivoluzioni di Galileo sono tre, tutto sommato. C'è la rivoluzione scientifica, che è inutile discutere. E c'è la rivoluzione linguistica, perché prima di Galileo tutta la scienza era fatta in latino. Galileo scrive in latino, in Siderius, perché quella certo è rivolta, quella sì che è rivolta agli addetti ai lavori, perché come vuole la scienza, la scienza, come dice un teorico, è eteroverificabile. Cioè, mentre la letteratura potremmo dire che è autoverificabile, nel senso che io posso dire tutto quello che vuole, posso dire che gli asini volano, tutto quello che uno vuole. L'importante, allora, se uno dovesse guardare al furioso, quante assurdità ci sono. Però, lì è autoverificabile. La scienza, invece, è eteroverificabile, che è bisogno che ci sia qualcuno che avalli quello che uno dice. E, in questo senso, Galileo scrive il Siderius in latino, perché, infatti, chiede l'avallo, la conferma di Keplero, di Clavio, che non sapendo l'italiano, e così, anche dopo la condanna, praticamente, scrive questi discorsi intorno a due nuove scienze, che per i tre quarti, in realtà è scritta in latino. Altrimenti, scrive in italiano, ed è una rivoluzione, perché non si usava fare scienza in italiano. È un po' la questione di oggi, che bisogna per forza scrivere, fare lezioni in inglese, perché è la stessa cosa. Anche se abbiamo studenti americani, che vengono in Italia a imparare l'italiano, e si vanno a sentire delle lezioni fatte in un pessimo inglese, che li rende ancora meno comprensibili che se parlassero in italiano, che per loro è lingua straniera. Vabbè, ma c'è anche una terza rivoluzione, che è quella, che è quella, diciamo, letteraria, e riguarda il genere letterario, il genere letterario, che in Galileo non è più il trattato. La forma usuale, diciamo, la forma di cendi, come ragionavano i retori, era il trattato. Galileo ricorre al dialogo, è una nuova rivoluzione, ovviamente nessuno può pensare che Galileo inventi il dialogo, il dialogo è un genere collaudatissimo, pensiamo a Platone, pensiamo a Cicerone, ma la novità di Galileo è di avere assunto il dialogo per fare scienza, per un discorso scientifico, ma seriamente scientifico, non di divulgazione, non di diffusione così democratica, no, nei massimi sistemi sono un'opera di scienza, vera e propria, però resa attraverso il dialogo. Prima si usava il dialogo, è un genere umanistico, rinascimentale, ma lo si usava per esempio per i dibattiti sull'amore platonico, sulla questione della lingua, se uno fa storie della letteratura come si diceva una volta, c'era un capitolo, la questione della lingua è fatta attraverso dialoghi, dialoghi sulla civil conversazione, per esempio, dialoghi di politica, insomma. Ecco, lui invece fa un discorso che riguarda la scienza. Che differenza c'è fra il dialogo e il trattato? Fino a quando posso andare? Allora, cinque minuti, semplicemente dico questo, che mentre il trattato è una forma monologica, appunto, il dialogo è una forma dialogica che mette a confronto, mette a confronto delle posizioni, non solo, ma mentre il trattato è di sua natura acronico, nel senso che segue logicamente uno sviluppo di un ragionamento, lì invece nel dialogo è più movimentato, è più drammatizzato, ma soprattutto, questa è la cosa importante, ci sono tante differenze, molte più di queste che sto dicendo per ragioni di economia, soprattutto il dialogo ha questo vantaggio per Galileo che introduce quella che i retori chiamano la prova etica, cioè dà valore non solo a quello che viene detto, ma indirettamente dà valore al messaggio in funzione della, diciamo, affidabilità, della credibilità di chi espone quelle cose, che è una tipica situazione diciamo retorica e letteraria e umanistica. Cos'è la prova etica? Insomma, tanto per fare un esempio grossolano, un enunciato detto per esempio da una persona che gode di grande prestigio oggi per esempio il Papa, è chiaro che quello stesso enunciato ha molto più valore che se quell'enunciato viene detto da un camorrista, che so, da un condannato all'ergastolo, eccetera. Ecco, questa è la prova etica che Galileo realizza attraverso la inserzione di tre personaggi che hanno una loro, appunto, un loro esos diverso che è questo, ci sono, c'è un personaggio che è Salviati che rappresenta che è il portavoce di Galileo stesso, c'è Sagredo che fa da giudice e c'è Simplicio che fa da avversario, è un dialogo a tre. Questo dialogo ha dal punto di vista diciamo argomentativo il modello platonico, tant'è vero che ci sono dei punti dove addirittura Galileo applica l'anamnesi, applica la maieutica, Simplicio riceve, insomma, come in Platone si insegna il teorema di Pitagora attraverso una serie di domande. Quindi questo e però dal punto di vista invece letterario retorico il modello è Cicerone. Nel Deoratore ci sono due personaggi che si fronteggiano, ovviamente nel Deoratore si discutono le diverse teorie retoriche, diverse prose, stili di prose. Però lo schema, la struttura è la stessa, c'è un giudice e ci sono due che si contendono con l'elemento retorico del giudice che è smaccatamente a favore del personaggio che ovviamente sostiene le tesi dello scrittore, dello scrivente, cioè di Cicerone in un caso e di Galileo nell'altro. Ecco, quel passo qui che ho citato è una, ancora una volta, una digressione sulla digressione dove si sostiene, qui non ho messo chi era ma credo mi pare sia Salviati, Salviati dice che appunto i massimi sistemi è una specie di imitazione di una conversazione dove si parla del più e del meno, qui poi c'è una forma di ironia di Galileo, dice sì non c'è intenzione di pubblicarla, parliamo così innocentemente, eccetera, e c'è questa affermazione che spiega dei vantaggi che il dialogo può avere rispetto al trattato. Perché? Perché al di là di quello che sono i contenuti di ciò che dicono i vari interlocutori, la personalità, appunto, l'ethos dei tre personaggi fa sì che il lettore sia indotto a credere, a ritenere più affidabile quello che dice Salviati, perché Salviati è molto paziente, è molto riflessivo, è autorevole, è una specie di controfigura di Socrate, una figura socratica, mentre Simplicio è ignorante, presuntuoso, si vanta di non conoscere la matematica, insomma, ha tutti gli elementi negativi che ovviamente scaricano di altrettanta negatività lo scaricano su quello che lui dice. E in una cornice che è quella della civil conversazione, possiamo dire. Quindi una cornice diciamo pure letteraria, umanistica, perché appunto sui massimi sistemi vengono a convergere tre tradizioni, una è quella appunto platonica, l'altra è quella ciceroniana, la terza è quella umanistica della civil conversazione. E a proposito di dialogo, ecco, questo è il genere che Galileo ha sempre cercato e che riesce a raggiungere in massimo grado nei massimi sistemi che diventa un'opera quasi teatrale che si può teatralizzare, tant'è vero che Campanella la definì una commedia filosofica, cioè l'ha definita una commedia filosofica. E per quello che riguarda invece l'uso delle digressioni, Bonaventura Cavalieri la paragonò all'Orlando Furioso perché c'è l'antra la SMA e disse ma io quando ho letto i massimi sistemi mi ha dato l'impressione di leggere i massimi sistemi, di leggere l'Orlando Furioso. Questo non vuol dire che Galileo abbia scritto il dialogo solo alla fine della carriera la sua opera maggiore, no, ha sempre perseguito ricercati il dialogo nella forma diciamo così surrogata che è quella della lettera. La lettera è una forma viene definita come quel genere di dialogo è una forma particolare di dialogo in cui è assente è a distanza il destinatario e lui scrive le discorse e dimostrazioni intorno alle macchie solari in italiano. Scrive il saggiatore in forma di lettera quindi in forma dialogica lui si rivolge a un suo allievo un suo destinatario ma qui nel saggiatore la forma dialogica è doppia perché nel saggiatore lui assorbe e immette il latino del suo avversario quindi c'è un dialogo che è molto simile a quello per intenderci che si crea quando c'è uno che commenta un altro testo per esempio non so il Sapegno che commenta la commedia di Dante instaura un rapporto dialogico tra l'autore e lui stesso e quello è quello che succede nel saggiatore che è una forma dialogica tra il suo italiano naturalmente anche qui è una forma dialogica interessata a far risaltare la diciamo in eleganza la rosessa di quel latino scolastico a fronte di questo di questo italiano brillante sarcastico polemico eccetera di ironico di 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 Dante di Galileo va bene allora io direi che a questo punto ci possiamo ci possiamo fermare voglio solo ricordare che solo una cosa che quando si dice che Galileo insomma scrive così bene perché è ereditato il nitore il gusto toscano eccetera per l'eleganza e così via non vuol dire niente nel senso che c'è una ragione che ho cercato di spiegare che è una ragione diciamo così strategica così come ci sono stati dei critici letterari che hanno visto dei momenti in cui Galileo è barocco usa delle delle metafore delle metafore grottesche insomma ma anche in quel caso non è perché Galileo è barocco e l'altro invece perché Galileo era ancora rinascimentale fuori dal suo tempo è perché questi momenti diciamo così barocchi sono i momenti della polemica i momenti in cui si serve del grottesco si serve dell'iperbole degli eccessi per screditare l'avversario quindi sono sempre delle ragioni intrinseche è solo in questo modo che riusciamo veramente a vedere i rapporti fra letteratura e scienza altrimenti rimaniamo come prima ci sono gli scienziati che studiano Galileo per quello che ha detto di scienze ci sono gli umanisti che lo leggono perché fanno vedere come scriveva bene ma non è quello il discorso che va fatto bisogna vedere giocare negli interstizi nelle intersezioni ecco dei due dei due campi o universi di sapere va bene grazie meggi aspettiamo che ritornino anche gli altri se avete qualche domanda da fare possiamo cominciare la discussione in modo che poi alle 6 andiamo via io intanto volevo dire che ho molto apprezzato proprio il metodo con cui Andrea Battistini ha fatto la sua lezione cioè appunto cercando davvero di far dialogare la letteratura e la scienza e di vedere in particolare come le diverse rivoluzioni di Galileo vengono incontro a questo problema poi mi ha molto colpito una parola che ha usato a un certo punto parlato di apostolato parlato di apostolato e mi ha colpito perché effettivamente quando tu ci dicevi appunto di di Galileo che per parlare delle maree parlare del secchiello no oppure di quella bellissimo indugiare che dava fastidio al suo traduttore tedesco sulle mosche le farfalle ecco diciamo questo fatto di usare anche dei paragoni tratti alla vita quotidiana mi faceva venire in mente un predicatore come Bernardino da Siena il quale quando predicava appunto davanti alle masse delle persone si rivolgeva ad esempio alle donne dicendo avete mai schiumato il pignatto e così come dire faceva riferimento a un'esperienza della cucina e naturalmente da lì partiva per dire così il diavolo il peccato così bisogna schiumare il pignato ecco nel senso che è interessante naturalmente per carità non voglio paragonare Bernardino da Siena a Galileo dal punto di vista degli strumenti retorici questo è significativo cioè quando è che tu per introdurre addirittura una rivoluzione come nel caso di Galileo o per introdurre una rivoluzione morale un cambiamento morale come nel caso dei predicatori usi esempi legati alla vita quotidiana proprio quando sai di dovere cambiare i cervelli proprio quando sai di dovere fare leva in modo appunto persuasorio sì grazie Lino no tra l'altro l'apostolato l'ho usato come dire pur cause perché se ci pensiamo bene il Siderus Nuncius è proprio un Vangelo il Vangelo è una nuova la buona novella il Siderus Nuncius è letteralmente un Vangelo nel senso che infatti è stato detto è stato definito è il manifesto della nuova scienza non a caso il 1610 è stato considerato l'anno mondiale dell'astronomia insomma è una cosa epocale è una cosa epocale che cambia cambia quello che era prima non è più tale e per quello che riguarda il predicatore sì perché non so se ricordi o se ricordate questa idea del predicatore è resa benissimo da Brecht quando quando nel Galileo di Brecht dice è più forte di me come farò quando avrò soltanto i muri a cui rivolgermi è una maledizione è una specie di di demone che lo incalza che lo che lo tormenta un po' come e questo discorso è vero perché credo che in fondo Galileo quando viene condannato è vecchio ha più di 70 anni sa lui stesso di avere poco tempo da vivere tutto sommato gli importa poco la condanna anche perché poi è una condanna ma non è che sembrerebbe che avesse subito della tortura ma non ci sono dati certi sta di fatto che al di là di tutto questo la sua sofferenza maggiore la sua vera tragedia è proprio questa di non potere più proprio predicare infatti c'è un suo allievo che dice sì abbiamo perso tutto il nostro programma è andato male insomma racconta tutto quello che gli è successo con la condanna e dice è quel che è peggio è proprio quella che in retorio si chiama climax è quel che è peggio tacere cioè la cosa peggiore che ci è toccata è quella di dovere tacere non potere più sostenere questa specie di buona novella questa specie di vangelo laico della nuova scienza quindi c'è veramente certo giustamente ma è ovvio è chiaro che sono diversi contenuti e tutto quanto ma non c'è dubbio che questa questo potremmo dire tensione questo afflato da predicatore ce l'ha anche Galileo e Brecht spesso abbiamo visto prima Calvino si poteva citare anche Gad spesso gli scrittori vedono molto più lontano e più a fondo degli stessi critici letterari quando Brecht rappresenta Galileo in quel modo è chiaro che poi esagera è chiaro che inserisce la sua ideologia marxista e quindi dice che lui deve predicare ai contadini agli analfabeti eccetera chiaramente non era questo il Galileo storico però pur con questi eccessi che però l'arte consente ha accolto bene questa dimensione che potremmo proprio dire predicatori in quella fra e poi quando col piccolo lì come si chiama Andrea insomma il giovane e cosa lui vuole sempre insegnargli vuole sempre e lui dice eh ma tu giri sempre le cose alla fine vieni sempre a aver ragione cioè dimostri le cose presentandole a modo tuo che è un po' quello che fanno i predicatori che vogliono sostenere per forza quella che è la loro la loro tesi quindi è vero c'è questa componente se ci sono domande magari mi sento dire che non viene fatto però c'è ci sarebbe ma come no siccome il 600 è il secolo depresso che quasi sempre si salta e allora anche Galileo viene coinvolto no ma la colpa ovviamente dei programmi è chiaro che il 600 viene schiacciato perché bisognerà pur fare Machiavelli Ariosto Tasso eccetera dopodiché che so Parini questi qua Alfieri bisogna farli e lì in mezzo insomma pagano le le colpe io per esempio Galileo l'ho fatto con un albo illustrato il messaggero delle stelle io insegno alla scuola media avevo chiesto se potevo comunque partecipare a queste o altre lezioni e ho proposto ragazzi con questo albo che tra l'altro è un albo d'autore perché ora non mi ricordo l'autore bene però è fatto molto bene le immagini sono veramente seguono anche i disegni di Galileo quindi non è un albo ecco fatto così tanto per e quindi l'ho proposto ai ragazzi in seconda media fatto così sono riuscita a proporlo ed è stato anche apprezzato certo beh messaggero delle stelle è proprio il titolo del Siderius Siderius Nuncius dopo si gioca un po' su Nuncius perché in latino è il messaggio e il messaggero lui in realtà voleva intitolarlo messaggio però faceva più gioco dire il messaggero delle stelle appunto un altro punto avete visto un altro programma di questi incontri ce n'è uno dedicato alle imprese con Barbara che insegna alle scuole alle scuole medie e appunto anche lì ci sarà proprio anche un'esperienza didattica cioè non solo il confronto con questa esperienza antica dagli emblemi delle imprese ma anche diciamo su come si possono usare anche didatticamente naturalmente appunto il problema del rapporto con le immagini per noi che facciamo letteratura è fondamentale diciamo si tratta di vedere se ci lasciamo travolgere o se invece no riusciamo io volevo un suggerimento sto affrontando Galileo nella mia quarta liceo scientifico da un punto di vista critico appunto leggendo e commentando il Galileo di Brecht di fronte a un pubblico di ragazzi che ovviamente ha già affrontato la vicenda di Galileo dal punto di vista storico ecco volevo qualche suggerimento per evidenziare quali aspetti della persona di Galileo sono salvaguardati in Brecht e qual è invece l'apporto ideologico che ovviamente risulta evidente e che è stata per me una premessa necessaria prima di affrontare questo percorso grazie ma dunque intanto bisogna il problema del Galileo di Brecht è un problema filologico abbastanza complicato perché lui lo ha scritto con due versioni e una l'ha scritta diciamo prima della bomba atomica e una l'ha scritta dopo e allora chiaramente questo ha inciso sul giudizio che viene dato di di Galileo siccome si dice sempre in filologia che bisogna dare l'ultima versione l'ultima volontà dell'autore ecco nell'ultima volontà dell'autore Galileo viene da Brecht diciamo censurato per la sua biura infatti in quella versione c'è il ragazzino che dice non lo voglio più vedere vada via questo che questo vigliacco che ha biurato eccetera ecco è chiaro che lì il discorso non è più quello di Galileo ma è il discorso nel novecento il problema della scienza il nazismo l'uso della scienza a fini appunto che quelli che conosciamo non dimentichiamo e questa forse è la cosa più impressionante visto che è passata da poco il giorno della memoria quello che più impressiona è l'appunto scientificità il rigore scientifico con cui si è pensato di sterminare una popolazione ecco è quello che colpisce ovviamente colpisce il numero e tutto quanto ma è quello che sta dietro è la razionalizzazione ed è quello che Brecht di cui tiene conto e considera Galileo come uno dei primi scienziati che alla fin fine fanno il loro lavoro e non si pongono questi problemi etici eccetera è chiaro che questo non risponde alla realtà storica perché chiaramente Galileo non poteva fare altro non è che lì potesse fare chissà quale cosa poi c'era anche storicamente e naturalmente Brecht non ne può tener conto la delicatezza della sua posizione rispetto alla famiglia dei medici con un papa che era fiorentino era toscano eccetera e quindi c'erano delle ragioni per cui per esempio anche la stessa biografia che è stata fatta da Viviani è una biografia anche quella ideologizzata per esempio praticamente non parla della condanna cioè una vita di Galileo che non parla della condanna anzi c'è un un cenno che poi sarà ripreso dai gesuiti nel settecento nelle vite di Galileo dove si dice ma in fondo questa condanna non è tanto dovuta agli uomini gli uomini sono stati gli esecutori la condanna è della provvidenza perché Galileo è stato dotato da tali doti da tale intelligenza ha fatto tante scoperte che era giusto che facesse anche lui degli errori perché tutto sommato era sempre un uomo anche lui e quindi è anche poi giusto che sia stato condannato quindi la cosa interessante e questo credo che si possa dire che Galileo è un banco di prova molto efficace anche didatticamente per far vedere appunto l'ideologia nel senso nel senso di marxiano cioè il fatto che viene un po' tirato da tutte le parti come succede per i grandi le grandi figure le grandi personalità per cui abbiamo avuto un Galileo appunto addirittura a fine a fine ottocento un Galileo ateo un Galileo che non risponde al vero perché Galileo certo lui una delle ragioni anche della condanna è che non andava in chiesa non andava a messa e ha avuto due figli illegittime eccetera nate pare da una prostituta quindi non era un credente nel senso così devoto eccetera però certamente non si può dire che fosse ateo ecco lui voleva riformare la chiesa dall'interno con questo grande progetto e anche questa è l'altra ragione della sua diciamo tragedia esistenziale cioè il fatto che questo grande progetto è stato vanificato da una chiusura che poi ha tante ragioni politiche perché pare che come poi anche adesso nella Curia ci fu uno spostamento di alleanze per cui al partito diciamo filo francese che era più aperto infatti Barberini ha fatto un grande cambiamento prima gli dedica addirittura una poesia latina Galileo eccetera e dopo invece è uno che lo vuole condannare perché è chiaro che dal Papa dipendeva tutto quindi ci sono cose più complesse però certamente come i grandi le grandi figure si presta a tante angolature a tante interpretazioni ecco quella di Brecht è molto efficace soprattutto credo che l'aspetto più vero ovviamente trasfigurato dalla letteratura e dal teatro sia questa ansia di fare sapere le cose di fare conoscere questa componente non so potremmo dire pedagogica didattica che c'è dappertutto c'è dappertutto quando per esempio questo Monsignore Pierodini dice ma insomma sarebbe meglio che queste cose le presentasse in via ipotetica dire ma è un'ipotesi che è quella poi che il Papa fa dire nei massimi sistemi perché ci sono delle parti che in realtà non sono di Galileo glielo impongono perché se non le metteva non gli davano il permesso di pubblicare e lui ribatte scrive no quello che dico è vero è così è indubitabile la Terra gira attorno al Sole realmente realisticamente non sono ipotesi eccetera poi è costretto a dire queste cose e allora è chiaro che poi uno come Brecht vedendo questi conformismi sotto la pressione di quello che era successo con il nazismo e la bomba atomica ecco lo condanna di vigliaccheria ecco quindi ci sono dei motivi che sono come dicevo prima ancora più veri del vero perché un uomo di teatro come Brecht riesce a renderli con un'efficacia ancora superiore a quello che si può trovare leggendo un testo storico oggettivo documentario e dall'altra parte ci sono invece delle inserzioni del clima insomma tutte le opere sono sempre così cioè c'è l'opera storica così come è stata scritta e per come vale quando venne scritta dall'autore e poi la sua inevitabile attualizzazione ecco è una dialettica che poi in Brecht si vede molto bene volevo chiedere tre cose professore volevo chiederle tre cose uno è diciamo che tipo di influenza secondo lei ha avuto non mi si sente come? che tipo di influenza ha avuto la prosa di Galileo diciamo questa letterarietà della prosa di Galileo in seguito poi volevo chiederle per curiosità cosa ne pensa lei di tutte le biografie diciamo romanzate so pensavo a Costanzo che in realtà parla del padre Galileo però insomma parla anche di Galileo e anche dei gialli cioè che diciamo nel corso dell'ultimo ventennio ci sono stati su su Galileo stesso poi volevo anche chiedere un'altra cosa perché cioè volevo dirle una cosa più che altro per conferma perché a me sembra che invece Brecht non pensi agli scienziati nazisti ma pensi ai dieci di Hollywood perché la figura di Galileo mi sembrava che in realtà fosse molto più diciamo insomma comunque non condannata completamente come invece Brecht aveva condannato agli scienziati nazisti e lo stesso Brecht aveva subito un processo aveva detto che lui non era comunista cioè chi ha ritrattato in realtà nei dieci di Hollywood era forse la parte migliore di Hollywood anche se poi come dire magari aveva denunciato gli altri però non erano i peggiori dal punto di vista intellettuale quindi questo nodo così importante forse Brecht non so lo proiettava su Galileo volevo chiederle insomma se poteva essere sì ma dunque l'influenza della prosa intanto indubbiamente fin da subito si è capito che Galileo era un grande scrittore intanto poi c'è stata c'è stato direi c'è stata una deformazione dovuta paradossalmente a Leopardi Leopardi ha dovuto scrivere una crestomazia cioè un'antologia della prosa e una della poesia nella prosa l'autore che più è presente come numero di pezzi e di pagine è Galileo e questo intanto certamente è positivo perché Leopardi si è reso conto che è stato un grande scrittore è negativo il fatto che Leopardi abbia appunto estrapolato e decontestualizzato dei passi che sono appunto delle belle pagine che tali sono se appunto le si svincola da quello che è il loro contesto da quello che è il loro obiettivo dico questo perché esiste la prova di tutto ciò cioè Leopardi scrive al suo editore Stella che era di Milano che gli aveva commissionato la vicenda è nota per guadagnare qualcosa ed emanciparsi dalla famiglia accetta di scrivere di fare queste antologie insomma praticamente due testi potrebbero dire scolastici e scrive a Stella dicendo bisogna fare di Galileo un'antologia che elimini tutte le parti scientifiche eccetera ed estrapoli i passi e infatti c'è naturalmente quella del curioso indagatore dei suoni e così via questo ha creato ha creato questa deformazione che non sarebbe stata male non avrebbe avuto conseguenze se fosse limitata a questa crestomazia ma il fatto è che quando poi negli anni venti la ronda prende Galileo la sua poetica che è una poetica in realtà frammentista la del Zevir una forma breve eccetera legge Galileo come lo aveva letto come l'aveva letto Leopardi e noi sappiamo che per la ronda è Leopardi il punto di riferimento la poetica rondista è una poetica classicistica che è il suo modello Leopardi delle operette morali e anche questa idea di leggere Leopardi per i passi più più eleganti allettanti che abbia scritto lo dico perché esiste un'opera che ha avuto una notevole fortuna direi fino agli anni 50 ed è quella l'ontologia della prosa scientifica italiana di Falqui di Enrico Falqui che era un rondista e che ha indotto diciamo ha indotto a leggere gli scienziati estrapolando le pagine meno scientifiche o addirittura non scientifiche o addirittura contrarie alla scienza questo è stato un po' una deformazione così come ha un po' deformato il vero intento il vero obiettivo della scrittura di Galileo quelle definizioni che sono state date per esempio De Sanctis nella storia della letteratura parla di una prosa che assomiglia a un bel lago quindi questa quiete lo ha letto come fosse uno scrittore del Cinquecento il che dico almeno anagraficamente non è è così anche lo stesso Leopardi ha parlato della scolpitezza evidente voglio dire sono la influenza di Galileo nella prosa successiva è stata il modo di leggerlo è stato quello più antiscientifico che potesse esserci cioè scindendo le cose dicendo beh qui Galileo fa lo scienziato ci interesserà di questo chi fa storie della scienza qui invece c'è la bella pagina ecco invalso l'uso di prendere di Galileo la bella pagina ora è chiaro che per esempio a scuola è inevitabile nelle antologie nessuno può pretendere che si legga i massimi sistemi eccetera quindi però quello che è importante sarebbe cercare di spiegare perché mai uno scienziato punti e si occupi e abbia interesse anche a dare una bella pagina a dare di quello che dice una a dirlo in un modo elegante ecco quanto poi all'influenza diciamo sugli scrittori beh c'è una una linea di forza diciamo che è quella rappresentata da da Calvino che vede questa specie appunto di parallelogramma delle forze che comincia con Ariosto passa attraverso Galileo arriva a Leopardi e poi arriva appunto nel novecento a a Calvino stesso ecco questa è un po' la linea della prosa potremmo dire la prosa saggistica ecco è lì che c'è stata l'influenza di 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 Galileo poi per quello che riguarda le le biografie romanzate eccetera ma questa è la sorte un po' di tutti perché c'è anche Dante ci sono dei gialli con Dante Detective dove l'assassino è mi pare Casella cioè sono tutti personaggi così dove per strada c'è un cane che lo lo aggredisce allora prende un pugno di terra glielo mette in bocca insomma quindi voglio dire non fa altro questo che ribadire la fortuna di questo di questo personaggio che ancora una volta non è più ho detto personaggio perché non è più il Galileo storico eccetera ma è quello che è capace di così ispirare di suggerire anche vicende romanzate per quello che riguarda Brecht ma sì certo lui non è che è possibilissimo lui non è che faccia dei discorsi espliciti se non certamente quello lo ricorda la bomba la bomba che ha posto fine alla guerra tra gli americani e il Giappone che lui considerava come un esempio di una scienza che non è votata al bene a quella che gli illuministi chiamavano la pubblica felicità ma al suo contrario ecco come degenerazione della scienza quindi questa è un po' la prospettiva che poi può valere anche per tanti altri esempi specifici che magari lui non enuncia esplicitamente ma che certamente potrebbero rientrare nelle motivazioni che appunto spiegano come mai Brecht alla fine faccia di Galileo anche una figura negativa come simbolo dello scienziato pavido che scinde la ricerca come dire beh io faccio ricerca le altre cose non mi interessano ecco che in realtà non risponde appunto come abbiamo detto al Galileo storico perché Galileo storico faceva ricerca ma aveva anche questa questa volontà diciamo di proselitismo che invece è l'aspetto che che Brecht comprende capisce e rappresenta credo in modo molto efficace come abbiamo detto prima io volevo fare una domanda invece di tipo tematico vale a dire una cosa che mi colpisce in Galilei è soprattutto la preminenza del senso della vista e dell'osservazione che è l'atteggiamento di partenza l'atteggiamento tipico dello scienziato che si pone ad osservare il mondo ma è anche l'atteggiamento dello scrittore quindi io volevo chiedere se questo elemento dell'osservazione della realtà quindi questa esaltazione della vista che viene ribadito non a caso anche l'Accademia dell'Incei non l'Incei è conosciuta per la sua dote e la qualità della vista siano un punto che si può considerare di contatto tra Galileo scienziato e Galileo letterato non a caso anche Calvino che comunque rappresenta un altro esempio di letterato scienziato diciamo comunque attratto dalla scienza fanno l'osservazione un punto di partenza un'osservazione che non solo gli permette di osservare la realtà ma anche forse di andare in una dimensione irreale quasi simile se vogliamo alla pittura di Escher sì beh non a caso i primi libri di Calvino hanno l'illustrazione di Escher nelle inaudi no ma per dire che è vero la cosa corrisponde ma dunque intanto sì è verissimo che anzi suggerisco se può interessare appena uscito adesso nell'appendice dell'edizione nazionale è stata anche recensita sul sole nelle appendici cioè sono tre volumi che integrano la mirabile edizione nazionale che tra l'altro è online quindi si può andare a vedere nel museo Galileo ci sono tutte le opere si possono anche vedere lì con le chiose a Petrarca ecco quello che è impressionante è che Galileo estrapola commenta sottolinea tutti i punti in cui Petrarca parla della vista della visione del vedere degli occhi di Laura e tutto quanto e in più bisogna fare un discorso di carattere proprio che riguardi il sensorio diciamo dell'uomo perché effettivamente nell'età di Galileo è chiaro che quando si parla di questi fenomeni di lunga durata non è che si possa definire un anno comunque nel secolo che va tra 5 e 600 si ha un cambio anche qui di paradigma sensoriale non è più l'udito che ha la meglio non sono più le voci una volta nel Medioevo addirittura i libri si parlava dei libri come delle voces paginarum cioè c'erano le voci delle pagine cioè si pensava che l'organo di senso prevalente fosse l'udito e infatti la trasmissione del sapere era fatta attraverso la lezione l'alexio eccetera anche il leggere era c'è un bellissimo saggio di Auerbach che dice quando uno legge leggeva Sant'Agostino insomma questi uomini qui leggevano sentivano la voce cioè rimandavano il segno grafico visivo alla forma acustica all'udito ecco le voci invece nel tra 5 e 600 in un periodo insomma indefinito è la vista che viene a prevalere vedi la fortuna delle imprese gli emblemi del libro illustrato uno dice beh il libro illustrato c'era anche prima le miniature e così via sì però cambia la gerarchia tra l'immagine e la parola cioè nel nel 5 e 600 è la la parola che diventa ancillare dell'immagine cioè la parola serve a spiegare l'immagine mentre prima l'immagine era più è chiaro che sono cose che metto dico in termini troppo drastici ma per farmi capire prima l'immagine era decorativa e serviva a illustrare a spiegare le parole nel tra 5 e 600 con la nuova scienza è viceversa è la parola che serve a spiegare l'immagine che diventa un primum quanto poi appunto al suo metodo certo il suo metodo essendo sperimentale è fondato sull'osservazione sulla vista però non dimentichiamo che il metodo è detto serve per per capire con una frase con una formula è ipotetico deduttivo quindi non è solo sperimentale ma c'è sempre la combinazione lui dice sempre è un endiadi cioè un unico concetto le sensate esperienze e le necessarie dimostrazioni l'altra cosa da chiarire è che queste esperienze sono sensate e infatti lui dice non bisogna guardare con l'occhio della fronte ma con l'occhio della mente cioè l'occhio della fronte è quello che guarda diciamo mentre l'occhio della mente è quello che vede c'è una differenza anche di lessico tra il vedere e il guardare ecco e l'osservare quindi quella di Galileo è una vista che assume già acquista già un ruolo attivo allora è chiaro in questo senso quello che diceva lei cioè che anche lo scrittore inevitabilmente non è mai mimetico non è mai passivo cioè non guarda mai ma semmai vede e quindi vedendo interpreta e quindi ricrea ed è la stessa cosa che fa lo scienziato lo scienziato non deve vedere per questo Galileo non parla solo di esperienze ma parla di esperienze sensate e le abbina sempre indissolubilmente alle necessarie dimostrazioni che vuol dire un metodo anche insomma non solo induttivo ma anche deduttivo grazie ancora grazie Grazie a tutti.